TG6 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 TG7 TG6 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 Nonostante questo la cifra emotiva è sempre molto forte. Ieri è stata una notte di riflessione e questa giornata è molto particolare, da tutto un punto di vista emozionale. Le regole anti-Covid prevedono che ad entrare all'interno dell'aula sia uno studente per volta, con al massimo un accompagnatore. Genitori ed amici fuori ad aspettare, ma quando si esce è subito festa. Insomma al via agli esami di maturità, questi particolari esami di maturità segnati come lo scorso anno sicuramente dalla pandemia. Noi andiamo a Chieti dove il sindaco Diego Ferrara al microfono di Paolo Renzetti ha voluto fare gli auguri agli studenti. Sindaco la giornata di oggi è una giornata importante, partono gli esami di maturità, l'augurio del primo cittadino di Chieti agli studenti che studiano a Chieti. Amo i giovani, conosco la loro bravura e il loro ingegno. Dico solo questo agli studenti di Chieti, diplomatevi, andate alle università del territorio e per cortesia cercate di rimanere nel territorio approfittando di qualsiasi futura occasione di lavoro perché voi siete il futuro e questo territorio merita che restiate in esso a dare la vostra opera. Abbiamo dovuto superare delle prove gigantesche e devo dire che nei primi mesi del 2021, soprattutto nel mese di febbraio, ho temuto fortemente di non riuscire a farcela, non personalmente ovviamente, ma con la mia amministrazione, a fronteggiare i problemi che la pandemia stava determinando e ha determinato. Per quanto riguarda gli studenti, io capisco che arrivano stremati a queste prove di esame di Stato, soprattutto per la mancata socializzazione di tutti questi mesi che, come ho detto in un'altra intervista, la socializzazione per i ragazzi rappresenta l'ossigeno con cui vivono. Cambiamo argomento, la politica ci porta ora a Roseto degli Abruzzi dove torna in campo Tommaso Ginobble. L'ex parlamentare nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Roseto, infatti al termine dell'estate ci saranno le elezioni amministrative. Stefano Recanati. Sta per entrare nel vivo la prossima campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Tra i comuni al voto in Abruzzo, la data più chiacchierata, quella del 10 e 11 ottobre, anche Roseto degli Abruzzi. È proprio il comune costiero della provincia Terramana e il suo primo candidato sindaco. Si tratta di Tommaso Ginobble, che dopo le esperienze come assessore regionale e parlamentare ha deciso di mettere tutta la sua esperienza politica acquisita al servizio dei suoi concittadini. Questo è il motivo principale di una persona che vede un po' a naspare la cresta della propria cittadina, della propria comunità e anche un po' di tutto il territorio provinciale, insomma, nei riguardi le altre province abruzzesi. Quindi l'amore per questo, una passione che nonostante nonostante gli anni uno coltiva ancora, è la possibilità, come devo dire, di fare anche da facilitatore per il rasserenamento di un clima troppo conflittuale che non è buono per i lavori. Essere sindaco di Roseto, dice Ginobble, non sarà solo un ritorno a casa, ma una missione al servizio della città che ha tutte le carte regola per dettare il passo ed essere guida in provincia di Terramo e nella regione Abruzzo. Quello di guardare in maniera ampia, ma nello stesso tempo molto risolutiva nei riguardi dei problemi. Mi piacerebbe che la mia candidatura venisse segnata da tre elementi che segneranno il futuro amministrativo. La velocità delle decisioni, la risoluzione degli stessi ed essere giusto nei riguardi dei bisogni di tutti i cittadini. Ha già iniziato a palpare quali sono le sensazioni del suo rientro nella cittadina di Roseto e quali potrebbero essere i propri alleati? Guardi, mi sembra che la sensazione è buona, è da precampagna elettorale, quindi è difficile anche da definire completamente. Io voglio compagni di viaggio, ho scelto di fare una coalizione nel segno della cittadinanza senza i partiti, sono stanchi dei litigi. Non mi interessa da dove vengono i miei candidati, ma quello che vogliono fare con me se dovessimo assumere la guida di questa città per i prossimi cinque anni. Il club acquatico Pescara sollecita Regione Comune a fare presto per assicurare la riapertura dell'impianto sportivo Le Naiedi e per non perdere ulteriore tempo, spiega il presidente Fussinoni, sarebbe meglio una gestione privata, seppur temporanea. Vediamo. Il nostro vero crucio è, riaprirà a settembre Le Naiedi? Le società sportive che avevano casa nell'impianto Le Naiedi di Pescara temono che le piscine non riapriranno nemmeno a settembre. Tra queste c'è il club acquatico che ha dovuto trovare ospitalità nelle altre strutture del circondario. La squadra di pallanuoto affronterà i play-off per salire in A2, ma rischia di rimanere senza la piscina per le gare interne. Per noi è un semidisastro perché le attività e il numero degli atleti sono talmente tanti che non riusciamo a compensare solo con l'attività qui nella piscina provinciale. Tenete presente che quest'anno per larga fetta dell'inverno con le attività agonistiche ci siamo dovuti appoggiare alla piscina di San Buceto che chiaramente ringraziamo, ma in questo momento stiamo andando anche alla piscina di Chieti che ha riaperto e addirittura da domani iniziamo anche alla piscina di Francavilla. Quindi sostanzialmente stiamo un pochettino sondando tutte le piscine del circondario per riuscire a dislocare le nostre attività, in particolare quelle che hanno bisogno dell'acqua profonda perché la piscina provinciale è una piscina di quartiere a una profondità bassa. Merito al discorso della palla a nuoto, noi dovremmo disputare i playoff, ancora non si sa se riusciremo almeno a farli a Chieti, ma noi abbiamo fatto un campionato sempre in trasferta, giocando alla piscina del passetto di Ancona. Quindi c'è un problema oggettivo immediato perché sono costi incredibili che abbiamo dovuto supportare. Meglio una gestione privata, seppur temporanea, piuttosto che quella pubblica, sostiene il presidente Fustinoni, altrimenti si rischia di perdere settimane preziose. Noi non siamo né contro regione né contro comune, noi abbiamo solo la paura del tempo perché oramai mancano 15 giorni, questo deve essere chiaro per tutti, per decidere se le piscine si riapriranno, ma non quest'estate, ma a settembre. La programmazione, non solo l'apertura delle vasche, ma la programmazione commerciale e organizzativa e le persone di riferimento devono essere coinvolte in questo momento. Fra 15 giorni, se passano questi ulteriori 15 giorni non riapriremo neanche a settembre. Oramai la stagione estiva, che molti dicono è alle porte, è già andata. La soluzione potrebbe essere quella di trovare il soggetto pronto a gestire nel frattempo. Poi mi pare chiaro che la previsione della regione, già da due anni a questa parte, era quella di trovare dei finanziatori. In questo caso c'è questo Benedetto Project che va in giro da parecchi anni. È stato presentato da un nome di spicco come Amedeo Pomilio, che è sicuramente una garanzia per tutti in maniera trasversale. Poi andrà a gara, però l'importante è che la regione faccia presto ad approvare questo ITER. Arriva a Mare Piubello, la guida annuale di Lega Ambiente Touring Club italiano, sui comprensori balneari più belli e sostenibili della penisola. Torre del Cerrano rappresenta ovviamente l'elemento più prestigioso della guida blu in Abruzzo nel 2021, premiata con le quattro vele, quindi conferma questa performance. È un premio che noi consegniamo insieme al Touring Club italiano proprio per promuovere le realtà turistiche di più alto pregio. Ovviamente Torre del Cerrano rappresenta anche in quanto area naturalistica protetta, un elemento forte che viene alla direzione anche della ripartenza. Non è un caso che la guida blu l'anno scorso non è uscita, proprio legato al tema della pandemia che ha un po' bloccato tutte le nostre attività. Quindi oggi è un momento per ripartire, per farlo dentro un'area che ha le sue bellezze e che dal punto di vista non solo naturalistico ma anche turistico rappresenta un elemento di forza e pilota per l'intera regione Abruzzo. Naturalmente l'aver ospitato oggi la cerimonia regionale per la guida blu di Legambiente e Touring Club italiano e l'aver ricevuto l'ambito riconoscimento delle quattro vele di Legambiente è un momento importante di promozione del turismo responsabile e del turismo sostenibile sulla nostra area. Le aree protette nascono per tutelare il territorio, per tutelare la biodiversità, per tutelare la nostra natura. Quindi l'obiettivo prioritario è quello, dobbiamo essere bravi a saper gestire i flussi turistici, dobbiamo puntare, dobbiamo investire seguendo le finalità dell'area marina protetta che prevedono proprio la promozione di un turismo che sia responsabile. A Torre Cerrano si possono effettuare visite guidate, con le guide e con le società che gestiscono i servizi turistici si possono effettuare escursioni e visite guidate alle scoperte delle pinete costiere, alla scoperta della duna che è un elemento importante di biodiversità ed è un punto che tuteliamo perché proprio in quell'area, in quella zona ne edifica anche il fratino che insieme a tanti volontari e a tante associazioni ambientaliste proteggiamo con il progetto Salvo Fratino. Di fronte a Torre Cerrano si può effettuare lo snorkeling tra i resti dell'antico porto sommerso, così come abbiamo dedicato uno spazio che verrà installato a breve al mezzo miglio blu, quindi un tratto di costa, un tratto sicuro di mare dedicato al nuoto, quindi ai professionisti e agli sportivi che vogliono nuotare in maniera sicura in un'area marina protetta. Ha fatto tappa a Pescina la Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Come in Italia che ha lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Vediamo il servizio. A Pescina Piazza Mazzarino si tinge di rosa in occasione dell'arrivo della Carovana della Prevenzione, viste gratuite per la prevenzione dei tumori al seno, ginecologici e della pelle, in una giornata dedicata alle donne appartenenti alle fasce deboli, non inserite nella lista screening della Regione Abruzzo. Questa giornata l'abbiamo fortemente voluta in virtù di tutto quello che è passato, ma soprattutto perché ci siamo sempre battuti col fatto che non era soltanto il Covid che bisognava salvaguardare la cittadinanza, ma salvaguardare quello che sono anche le patologie più gravi come gli oncologici. Questa giornata è proprio dedicata a tutti loro, proprio in virtù di quello che loro, sulla nostra piazza, danno assistenza e danno possibilità di prevenzione nel fare queste visite dedicate soprattutto al genere femminile. Con la prevenzione si arriva prima delle cure, quindi di conseguenza questo è quello che vogliamo, vogliamo prevenire è meglio prevenire che curare. Un po' come quello che è stato fatto sotto questa pandemia, abbiamo cercato di prevenire quello che poi non è i secondaggi e vogliamo farlo anche per quest'altro tipo di patologie. Oggi nello specifico abbiamo diverse patologie oncologiche, abbiamo dermatologia, abbiamo ovviamente senologia, quindi con mammografie e visite senologiche, ecografiche specialistiche, abbiamo la nutrizione che ad oggi è uno dei problemi che si riscontrano perché una sana alimentazione aiuta a prevenire il tumore del seno e quindi noi cerchiamo ogni volta sul territorio di chiedere un supporto da parte dei medici del territorio ed aiutarci a portare la prevenzione laddove è più complicato e più difficile farla. Giuseppe Pomponio. E questa mattina è stato presentato anche il calendario dell'estate angolana, tanti eventi culturali per rilanciare uno dei borghi più belli d'Italia, vediamo. Città Sant'Angelo riparte dal turismo e dagli eventi. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo voluto puntare soprattutto in visione di quello che è stato l'anno scorso sul turismo di prossimità, facendogli vivere un'esperienza sul nostro territorio con tantissimi servizi che abbiamo attivato quest'anno, dall'app City Around che permette al turista di potersi muovere in maniera autonoma sul territorio facendo dei percorsi prestabiliti e dall'altra parte con una possibilità di poter fare tramite delle e-bike un bike tracking con 80 km di sentieri segnalati sul nostro territorio, sia su un'app che con cartellonistica. Questa esperienza speriamo che possa essere vissuta dal turista nel miglior modo possibile, così come gli eventi estivi che abbiamo voluto fissare a livello culturale. Quali saranno gli appuntamenti clou dell'estate angolana? Gli appuntamenti partiranno dai tre nomi dei tre big che saranno Giorgio Pasotti, Federico Palmaroli e Corrado Tedeschi con il Dante. Così di contorno ci saranno anche le presentazioni di autori come il premio Campiello Remo Rapino e il di Pietrantonio che oggi è finalista al premio Strega. Anche la dottoressa Musini che è angolana oggi verrà a presentare il suo libro a Città Sant'Angelo. Così come anche eventi culturali come quelli della musica e il Città Sant'Angelo Music Festival che è la nostra punta di diamante perché con l'opera di Donizetti in tre giorni riuscirà a rendere Città Sant'Angelo fulcro dell'opera a livello abruzzese. E ora la pagina dedicata allo sport, parliamo di calcio. Questo pomeriggio si disputeranno le partite della penultima giornata del Girone F di Serie D. Due gare sono state anticipate alle ore 15, il Campobasso appena promosso in Serie C ospita il Fiuggi e poi Vasto Girardi Recanatese. Le altre partite si giocheranno tutte alle ore 16 come ora state vedendo da questa grafica. Si giocherà Castelfidardo Agnonese, Castelnuovo Rieti, Cinzia Albalonghia Tolentino, Matese Pineto, Montegiorgio Aprilia, Notaresco Giulianova e Vastese Porto Sant'Elpidio. Si giocherà quest'oggi anche la penultima giornata del campionato di eccellenza. Dopo l'opportunità sprecata domenica scorsa, il Chieti ha una nuova occasione per agganciare la promozione. Noi ci colleghiamo da Capistrello con Stefano Recanati. Buon pomeriggio Stefano. Buon pomeriggio a voi, ha detto bene, penultimo atto del campionato di eccellenza. Il secondo match point per il Chieti che qui a Capistrello sogna. La serie di manca poco più di mezz'ora a questa sfida importante in casa Nero Verde. La formazione allenata da Lucarelli è scesa in campo per il riscaldamento da pochi minuti. Ci sono anche dei tifosi a seguito della squadra, sono circa per ora una ventina i tifosi giunti dal capoluogo Tiatino. Sappiamo che per questa sfida sono stati messi a disposizione 35 tagliandi per i tifosi ospiti. Dicevamo una partita importante per il Chieti dopo aver sprecato il match clou davanti ai propri tifosi allo Stadio Angelini domenica scorsa, 1-1 contro l'Avezzano. Oggi ci sarà questa importante occasione. Ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la formazione allenata da Lucarelli. Non abbiamo ancora quelle ufficiali ma già dal campo possiamo vedere come ci sono sicuramente Rodia in avanti che prenderà il posto vicino a Fabrizio, autore del gol dell'1-1. Capistrello che è squadra penultima in classifica, nulla da dire al campionato, però è una squadra che gioca bene sul proprio campo e ha messo in difficoltà tante squadre. Ricordiamo l'1-1 con il Chieti ma anche la vittoria sofferta, acciuffata proprio sul finale dall'Aquila nella scorsa stagione. Dicevamo di questa partita per il Chieti importante, squadra tesa che si è riunita tutta insieme nella panchina qui a bordo campo. Lucarelli ha dato le ultime indicazioni ma vediamo, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano anche l'attenzione da parte di giocatori, dei dirigenti, tutti molto concentrati, poche parole da parte dei protagonisti. Intanto va avanti il riscaldamento, non è ancora sceso in campo per il riscaldamento, invece il Capistrello che sicuramente ti starà preparando. E sicuramente il Chieti, visto che è uscito prima dagli spogliatoi, sicuramente non la vuole soffrire più di tanto nello spogliatoio o la partita, ma la vuole vivere dal campo già dai primi minuti. 14.25, sono dunque poco più di mezz'ora questa sfida importante in casa Chieti da Capistrello e tutti gli aggiornamenti. Nelle prossime edizioni del TG, nella Bruzzo di Pallone di questa sera. A voi. Grazie a Stefano Recanati, allora staremo a vedere questa sera se i teatini festeggeranno già oggi la promozione, nel frattempo noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché nel prossimo campionato di promozione il Silvi ripartirà da un nuovo tecnico. Si tratta dell'ex centrocampista del Pescara, Fabio Ferraresi, e il presidente Antonio Delvecchio spiega i motivi di questa scelta, ascoltiamolo. Antonio Delvecchio, il Silvi riparte da un nome importante e conosciuto, in panchina ci sarà Fabio Ferraresi, ha la sua prima esperienza da capo allenatore. Come mai la scelta di Ferraresi? Noi appena abbiamo saputo che il presidente mister Castellano volesse provare altre esperienze, siamo subito messi in modo per cercare dei profili sempre di alta qualità e ci siamo orientati verso Fabio Ferraresi, lo abbiamo incontrato, abbiamo conosciuto e mi ha fatto un'ottima propria impressione. Si vede che è uno che ha giocato a pallone, che ha avuto esperienze di calcio professionista. Lui dovrà cercare di continuare quel progetto che abbiamo avviato da due anni fa, che è quello di creare una squadra mix tra giovani e giocatori esperti e quindi soprattutto valorizzare alcuni giocatori del settore giovanile. Vi affidate anche un po' all'esperienza dello stesso Ferraresi anche nell'allestimento della squadra? Sicuramente sì, siamo in contatto con lui, con il direttore sportivo Antonello di Crescenzo in cui stanno lavorando proprio per cercare di capire quali sono i profili adatti al tipo di squadra che vuole allestire e siamo convinti che lui riuscirà a portare anche e soprattutto dei giovani per i fuori quota che siano proprio competenti e preparati per la categoria. E circa il serbatoio di giovani del vostro settore giovanile, contate insomma nel fatto che qualcuno possa emergere? Quello sicuramente, ripeto, c'è stato qualche settimana fa, una comunicazione che abbiamo fatto anche sulla nostra pagina Facebook in cui c'era Chiavaroli che ha avuto uno stage fatto presso il Verona Calcio e quindi squadra di Serie A, quindi cerchiamo sempre di mantenere quanto è più possibile nelle nostre potenzialità il settore giovanile, almeno gli evi giovanissimi che poi giungono a Juniors e prima squadra. Ecco, notizia di un mese e mezzo fa della gestione del campo Ughetto di Febo che sarà di competenza della Pescara Calcio che si è giudicato il bando, a breve ci diceva incontrare il Presidente Sebastiani. Sì, siamo sentiti ieri per telefono e a brevissimo nei prossimi giorni fisseremo un incontro per meglio calibrare un po' la distribuzione degli orari e dei giorni nell'ambito di questi impianti sportivi che ricordo che al momento siamo tre squadre di calcio perché c'è il Pescara vincitrice del bando, siamo noi e c'è la Castro, quindi non è facile cercare di chiudere tutte le caselle per quanto riguarda i giorni e gli orari, però noi siamo predisposti affinché si trovi una soluzione che non danneggi nessuno, ecco questo è il nostro obiettivo. Termina qui questa edizione del TG6, i servizi che avete visto li troverete presto online sul canale YouTube e sul sito tv6.it, prossimo aggiornamento con l'informazione questa sera alle ore 19, grazie. Grazie a tutti.